Riparte da giovedì 4 febbraio presso il Teatro Pietro Aretino la rassegna teatrale Mappamondi, giunta alla sua quinta edizione. La Kermess, curata dalla rete teatrale Aretina, è rivolta ad un pubblico di giovani e giovanissimi come parte integrante della formazione scolastica. Tra i nove spettacoli in calendario le proposte vanno dalle fiabe a testi più impegnati che tratteggeranno due grandi artisti toscani. Tutti gli spettacoli inizieranno la mattina alle 9.15 con replica alle 11. Una serie di spettacoli che coprono tutti i generi, generi teatrali, quindi dal teatro di Fivugura, quindi con l'utilizzo di pupazzi, burattini e immagini, fino all'utilizzo della musica e invece il teatro d'attore classico. Si parte anche qui dai classici, storie classiche che sono ispirate alle fiabe o alle storie tradizionali, testi originali, esperimenti particolari come ad esempio il Mago dei Fiori dove c'è un esperimento di recitazione e teatro danza insieme. Sulle scuole superiori invece una sezione dedicata ai personaggi illustri toscani, in questo caso appunto un ritratto di Pier della Francesca fatta dalla compagnia Aretina Kilowatt e invece Divina Commedia al Bar che è presentato dalla compagnia nata. Da quest'anno ogni classe che prende parte agli spettacoli avrà diritto ad alcuni ingressi omaggio, da destinarsi a chi per problemi economici familiari avrebbe delle difficoltà a partecipare. Il contributo arriverà direttamente dal comune di Arezzo. Rispetto a un'opportunità che si dà nessuno ha il bisogno di rimanere indietro, quindi se ci sono famiglie che hanno delle difficoltà siamo in grado di poterle supportare nel poter dare ai propri figli le medesime opportunità degli altri.